Ups, a tutti ragazzi e ragazze, come state? Oggi sono qui solo per voi, per il trigger numero 12 del calendario dell'avvento. E cosa ho scelto oggi? Per scoprirlo indossate un paio di cuffie auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire, va bene? Io per voi ho scelto il portalistini. Alla prossima. il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 ... ... ... ... ... ... a tutti grazie a tutti grazie a tutti cucu ora tocca a voi iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della OOPS community e se sei un moschietto diventare un miopsino mentre se sei una femminuccia diventare una miopsina poi mi raccomando lo lascia anche un bel mi piace se questo video ti è piaciuto e commenta qua sotto tutto quello che ti passa per la testa il video di oggi purtroppo finisce qua ma se voi volete potete restare ancora insieme a me perché ora vi lascio di qua il video di ieri di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video che vogliate quindi buonanotte buonanotte e noi ci vediamo domani un bacio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti